Buongiorno, da Mimmo, Mr. Lynch, oggi è il 27 giugno 2021, è domenica, mi scuso per la voce bassa ma è per natura così, non posso farci nulla, ma in ogni caso siamo in Italia, a Napoli per la precisione, come puoi vedere dalla mitica finestra della tenda colorata, sono ovviamente 31 gradi Celsius e circa 88 Fahrenheit, che significa che fa molto caldo, c'è un bellissimo golden sunshine, sole dorato, beautiful blue skies, bellissimo cielo blu, proprio come da lei a casa sua a Los Angeles, e insomma, devo solo dire che cercando di preparare un tributo alla mia tastiera, l'anniversario della morte di Ennio Morricone, che sarà il 6 luglio, anche se non prometto niente, posso preparare solo due o tre pezzi, ma, perché vengo da un periodo in cui ho preparato veramente molti pezzi, qualcun altro mi conosce per il mio primo account sulla tastiera, e infatti, dalla mitica tastiera, e dalla mitica finestra alla tenda colorata, abbiate tutti una grande giornata.